Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cortiale saluto a tutti, da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Oggi sabato 28 dicembre la chiesa celebra la memoria, la festa dei santi innocenti martiri. Resta prorogata al prossimo 2 gennaio la scadenza per la presentazione delle richieste di risarcimento danni da parte dei privati che potranno continuare a protocollare le loro istanze presso i vari comuni interessati dalle recenti ondate di maltempo, allegando foto e perizie asseverate di tecnici abilitati e utilizzando il modulo che può essere ancora scaricato sul sito internet istituzionale dei comuni di Pescara, Montesilvano e degli altri comuni interessati oppure direttamente dal sito della regione Abruzzo, ma in questo caso bisognerà fare una piccola ricerca con Google, magari inserendo le parole maltempo Abruzzo, maltempo Pescara. I moduli sono disponibili presso i comuni colpiti dalla recente ondata di maltempo, anche in formato cartaceo. E ieri il comune di Pescara ha disposto l'immediata messa in sicurezza della scarpata di frana di Via Ventre d'Oca nella parte alta del quartiere Fontanelle. Frana determinata dall'alluvione che il primo e due dicembre scorsi aveva investito Pescara. All'intervento, limitato appunto alla sola scarpata di frana, dovranno comunque provvedere i tre proprietari privati delle aree interessate. Le indagini geologiche sul sito stanno proseguendo per individuare le cause della frana che ha solo sfiorato un'abitazione. E' saltata la seduta del Consiglio regionale su bilancio finanziaria 2014, l'avvio dopo un rinvio. Era stato annunciato per le 19 in attesa dell'esito della riunione delle commissioni consigliari riunite in sessione congiunta, a sua volta rinviata al pomeriggio. Il vicepresidente del Consiglio, Giorgio De Matteis, ha comunicato che la seduta dell'Assemblea è stata aggiornata alle 13 di oggi. Ieri a Pescara è stata inaugurata la nuova struttura del Museo del Mare, realizzata in 14 anni di lavori e 9 microappalti sulle ceneri dell'ex istituto di Marzio. Alle spalle del vecchio museo e accanto al mercato intico, all'ingrosso, con l'apertura ufficiale al pubblico del primo livello, dove è già stata allestita l'esposizione dei cetacei, delle conchiglie e delle tartarughe caretta caretta. Lo ha annunciato il sindaco di Pescara, Mascia. Mancano ora solo, ha detto, i capodogli da 15 metri, che stiamo catalogando per poi sistemarli in un salone adeguato. Da gennaio prossimo le scolaresche potranno tornare a visitare la struttura. Saranno 135 gli studenti più bravi che nel corso dell'anno scolastico 2012-2013 si sono diplomati presso gli istituti superiori di Pescara con il massimo dei voti, 100 su 100. 18 di essi hanno meritato anche la lode, 135 studenti che oggi l'amministrazione comunale premia in occasione della terza giornata del merito. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ieri nel suo ufficio ha ricevuto una delegazione giapponese della città di Mimamishimabara, guidata dal vice sindaco Seichi Tekada. L'iniziativa, voluta dall'amministrazione comunale con l'ausilio della Fondazione Cassa di Risparmio di Chieti, ha l'obiettivo di effettuare uno scambio culturale proprio con la città di Mimamishimabara, un scambio culturale al quale dovrebbe seguire la sigla di un patto di amicizia tra le due città. Polemiche sulla chiusura al traffico di Via Francia, la strada di collegamento tra Pescara e Spoltore, una chiusura disposta dal comune di Spoltore proprio alla vigilia di Natale. Oltre 45 minuti di coda per percorrere appena 100 metri di strada e traffico bloccato da piazza Pierangeli sino a Via Italia, all'innesto con la frazione di Villa Raspa di Spoltore. Oltre che sull'intera Via Fonte Romana sino all'incrocio con Via Pian delle Mele. E la terza chiusura in appena un mese e mezzo, dopo il primo cedimento verificatosi sul ponte a metà novembre. Questa volta la chiusura si protrarrà sino alle 18 di oggi, ha comunicato Berardino Piorilli, assessore alla protezione civile del comune di Pescara, augurandosi che l'intervento di oggi sia l'ultimo. E stop alle auto sempre oggi a Pescara nella centralissima Via Palermo per consentire lo svolgimento dei lavori di carico e scarico di materiale di risulta nel fabbricato situato al civico numero 8 privato. Il dispositivo resterà operativo dalle 7 del mattino alle 14 di oggi. Aperture straordinarie per il mercato ittico all'ingrosso di Pescara. Operativo da oggi sino a lunedì 30 dicembre, dunque fino all'antivigilia di Capodanno. E' la misura firmata ieri per agevolare quanto più possibile il lavoro della marineria nei giorni che immediatamente precedono la festa. Lo ha comunicato l'assessore al commercio del comune di Pescara, Gianni Santilli, ufficializzando l'ordinanza firmata. L'arte del silenzio è questo il tema del libro scritto da Fra Emiliano Antenucci che sarà presentato il prossimo 4 gennaio alle ore 18 presso la chiesa di Santa Caterina da Siena in Via Mezzanotte 92 a Pescara. Sarà presente l'autore con la giornalista Rai Ilenia Pietra Calvina ad organizzare l'Associazione Culturale San Benedetto. Appuntamento dunque per il 4 gennaio alle ore 18 in Via Mezzanotte 92 a Pescara presso la chiesa di Santa Caterina da Siena. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono nebbia al mattino e cielo sereno nel pomeriggio ed in serata con temperature da 5 a 12 gradi e venti deboli. Domani si prevedono cielo coperto nelle prime ore del mattino nubi sparse dalla tarda mattinata al primo pomeriggio e cielo coperto in serata con temperature da 3 a 13 gradi e mezzo e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso sia oggi che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara-Penni, il ricordo che la nostra emittente trasmette sugli 87,6 MHz sul sito www.radiosperanzapescara.it ed è su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Grazie per averci seguito e a rispettare.